Il muro di contenimento lungo la statale 16 Adriatica che a Pescara affianca il tracciato ferroviario in corrispondenza di abitazioni civili si farà entro il primo trimestre del 2022. La risposta alla richiesta del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari, è arrivata direttamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal gestore RFI, soggetti ai quali era stata indirizzata in data 29 luglio la missiva a firma del consigliere pentastellato che si era fatto portavoce delle numerose sollecitazioni dei cittadini pescaresi che lamentavano lo stato di degrado e la mancata sicurezza della zona adiacente il sottopassaggio ferroviario tra via Pasquale e Celommi fino al confine con Francavilla al mare, zona interessata dall'incendio dello scorso primo agosto soltanto qualche giorno dopo che la richiesta fosse protocollata come spiegato dallo stesso Domenico Pettinari. Il 29 luglio del 2021 scrivo al Ministero chiedendo appunto un intervento concreto sul tratto che va al tratto ferroviario della direttrice adriatica che va dal sottopassaggio di via Pasquale e Celommi al confine con Francavilla per intenderci a San Silvestro Spiaggia perché ho ricevuto una serie infinita di lamentere da parte dei cittadini che quel tratto è sprovvisto della necessaria recinzione un muro di contenimento. Perché questo? Perché comunque i cittadini vedevano vagabondi attraversare perché comunque c'è tutta una una sterpaglie, rami secchi che rimanevano inconstoditi ai lati della direttrice adriatica e della ferrovia. Quindi i cittadini chiedevano un intervento di recinzione, di falciatura, di pulizia di quei rami e quelle sterpaglie. Io scrivo il 29 luglio. Il Ministero mi risponde, mi dà ragione e invita appunto RFI a prendere provvedimenti e c'è una risposta da parte del gestore che entro il primo trimestre del 2022 saranno realizzati i lavori di recinzione di questo tratto di direttrice adriatica di ferrovia e siamo soddisfatti di questo. Nell'emore il Ministero però invita appunto il gestore anche a fare opera di pulizia di sterpaglie, rami secchi e quant'altro e dice chiaramente il Ministero parole al fine di evitare in questo periodo estivo probabili e possibili incendi. Purtroppo c'è stato, conosciamo tutti quello che è accaduto ma io mi impegnerò fino alla fine chiedendo la sistemazione di quel tratto e non solo, di tutti gli altri tratti perché vanno messi naturalmente in sicurezza per evitare qualunque tipo di situazione e dannoso per i cittadini.